Negli ultimi anni abbiamo aumentato il numero dei nostri dipendenti e contemporaneamente ridotto gli spazi dei nostri uffici. Può sembrare una contraddizione ma non lo è. Lo smart working unito al part time mi consente di studiare per conseguire la seconda laurea e di occuparmi anche del mio bambino. A casa mia grazie a dispositivi avanzati e distanti che posso connettermi al vicino qualsiasi convega e risolvere davvero ogni problema. Con lo smart working risultiamo anche molto più attraenti per le professionalità più dinamiche e innovative e la cosa ci rende anche più competitivi sul mercato. Sono la mamma dei due bambini e vivo a 50 km dall'ufficio. Con lo smart working continuo la mia crescita professionale e riesco a mantenere tutte le relazioni con i clienti e con i colleghi. Vivo in Valtellina a due ore di distanza dall'ufficio di Milano. Potete immaginare che cosa vuol dire guadagnare quattro ore di vita attraverso lo smart working. Non solo c'è un grande rapporto di fiducia con l'azienda, lavoro accanto ai miei cari in modo più efficiente e non ultimo c'è un grande risparmio economico per me e per l'ambiente. Sapete che è concretamente possibile misurare i risparmi che lo smart working genera? Stante che ha sviluppato Smetri, un tool informatico che consente di determinare i risparmi in termini di tempo, di emissioni e di denaro per ogni dipendente e per l'intera azienda. Per esempio noi di Stantec per ogni 100 dipendenti in un anno stiamo risparmiando 3.000 ore e 130.000 km nel traffico riducendo così i rischi di incidente, 40 tonnellate di CO2, 20.000 euro di costi sostenuti dai dipendenti e oltre 100.000 euro di costi aziendali. Sono volontaria in Croce Oro e ogni mercoledì passo la notte in ambulanza. Grazie allo smart working il giorno successivo riesco a essere presente in ufficio e lavorare in sicurezza da casa. Lo smart working mi ha cambiato la vita e mi permette anche di lavorare con maggiore produttività. Livo a un'ora dall'ufficio e mi risparmio due ore di traffico al giorno. Questo tempo lo impiego per lavorare e per andare a prendere mio figlio a scuola e stare con lui. Da noi lo smart working ha funzionato. vogliamo provare insieme? Bocämmi bene Bocca Grazie a tutti.